Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport con Enzo Tambor. Enzo stiamo analizzando la sconfitta del Bari contro il Siena, vogliamo parlare anche di due nuovi, Lugo Martinez e Joao Silva. Che impressioni hai avuto? Per me sono stati Lugo Martinez il peggiore in campo, obiettivamente. Ho visto un giocatore che ha qualità, si vede, il piede non si discute, ci vuole poco a vederlo, ha fatto la casca sventagliata a 40 metri con la palla sul piede, però io credo che se non riuscirà da secondaria questa qualità, anche un po' di rapidità di esecuzione, un po' di velocità, la qualità servirà a poco. Un po' mi riporta ai tempi del primo Donda, tanto per intenderci, un giocatore che io criticavo, non perché non sapesse giocare al calcio, ma perché a mio avviso aveva una marcia in meno rispetto agli avversari. Prova ne è che proprio da una palla persa da lui, quando l'hanno credito in due, gli hanno tolto il pallone senza colpo ferire, è nato il terzo gol del Siena. Quello ho visto a volte anche un po' appesantito, un po' lento, insomma sembrava un po' la versione di primo Polenta che abbiamo visto a Bale, però io gli auguro, così come per Polenta, di trovare poi il passo giusto, i tempi giusti, perché la qualità si vede. Deve anche adattarsi a un campionato diverso. La qualità è essenza, ecco io ieri non gli avrei dato tutta questa fiducia, gli avrei dato una partita intera, alla fine sono usciti gli altri, ma lui è rimasto in campo. Io mi auguro che non ci sia il classico innamoramento dal calciatore, cioè essere troppo legati ad un calciatore dal quale vedi fare cose straordinarie in allenamento, ma che difficilmente ripeterà in partita. Non dimentichiamo ad esempio che il primo torrente era, fra virgolette, calcisticamente ovviamente innamorato di Rivaldo. È vero. È un giocatore bello da vedere, ma che poi alla fine non era funzionale di una squadra che doveva avere un piglio più aggressivo. È chiaro che così come ho detto del Bari, che è da giudicare dopo 8-9 partite, a maggior regione devo dire che uno appena arrivato come Lugo Martinez, va visto e rivisto tante volte, potrebbe ancora, e me lo auguro, sorprenderci positivamente. Dovendomi soffermare sulla prestazione di ieri, a mio avviso ieri è sembrato un po' il classico pesce fuor d'acqua. Abbiamo un ascoltatorellino, poi mi direi anche cosa ne pensi di Joe Silva. Pronto? Un buon pomeriggio ad entrambi. Ciao. Ciao. Non facciamoci la testa di Gà. Abbiamo giocato. La faccia è la testa libera. La prima partita con la regina, la seconda con il Brescia, la terza con il Siena. Dobbiamo ancora amalgamarci. Un po' di qualche... Secondo me, piano piano, questi ragazzi daranno molte, ma molte soddisfazioni. Va bene, grazie per quello che dici. Noi dobbiamo commentare la partita di ieri, perché altrimenti dovremmo fare, come dire, i buonisti, essere felici per aver perso 3-2 ieri a Siena e dire abbiamo perso di misura, per poco non ci scappava la rimonta. Io obiettivamente a queste rimonte non credo molto, credo soprattutto ad un parziale di 3-0 dopo 35 minuti che è pesante e somiglia molto a quello di Bergamo. La rimonta poi la puoi fare, per carità, non dimentichiamo che la rimonta viene, per carità sono gol anche quelli, però viene da due tiri da lontano. Non siamo mai riusciti effettivamente a concretizzare, tranne che con la palla per Shoudone, un'occasione in area di rigore e credo che nel 3-2 ci sia anche molto del Siena che a un certo punto un po' si lascia andare. Il Bari ha giocato anche con qualità, con buone trame di gioco, per carità, questo c'è tutto, così come c'è tutta la speranza che questa squadra non possa che migliorare, che non possa che crescere, però proprio per migliorare e per crescere deve far tesoro della debacle iniziale, perché ripeto, se pensiamo di aver perso di misura Siena, può essere un risultato dignitoso, per me siamo fuori strada. Dobbiamo partire dal presupposto che il Siena in mezz'ora ci ha fatto tre gol. D'accordo con te, abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, sono Franco Rabari, buongiorno a tutti. Io vorrei fare spezzare una mezza lancia, diciamo così, a favore del Bari, piuttosto che subissarlo di critiche, perché tutto sommato ci sono errori della difesa fondamentale, c'è il primo gol, il primo gol è sotto un errore gravissimo della difesa e può darsi che se c'era Sabelli questa corsa non succedeva, il primo, e forse il portiere è anche mancato e non uscita. Il secondo è stata una protezione di D'Agostini, quindi sfortunatamente dopo otto minuti si è giocato sul 2-0, quindi a questo punto il terzo gol, altro errore, quindi a questo punto direi che sono anche le fatalità, le situazioni particolari che si determinano in una partita, ma andare avanti… Beh, fatalità, io voglio ricordarti che col Brescia per la fatalità abbiamo evitato un cappotto nel primo tempo, quindi il Brescia quattro volte sarà a calci piazzati, quello che vuoi, però il Brescia ha più colpito tre traverse e un palo, tre pali e una traversa. Sì, sì, sì. Cioè se noi partiamo dal presupposto che quello non l'abbiamo preso per questo motivo, se tu vedi di nuovo la sintesi della partita, Paolucci ha sbagliato un gol a un metro dalla porta, cioè ce ne potevano fare quattro puliti nel corso del primo tempo, e non è ammissibile a qualsiasi livello calcistico rischiare di perdere 4-0 in un tempo. Io capisco 3-0 spalmato nei 90 minuti, un gol nel primo tempo, due gol nel secondo tempo, in contropiede, ma lì noi stavamo perdendo 3-0 nel primo tempo. Quindi io ripeto, non stiamo facendo un processo, già stiamo facendo i disfattisti, no, non è questo il punto. Però se si vuole risalire la china, io ritengo che sia giusto invece proprio evidenziare ciò che non ha funzionato. Una squadra che subisce 3 gol in 35 minuti e 2 in 8 minuti, evidentemente ha dei problemi. Se noi non partiamo da questo presupposto che la squadra ha dei problemi, non ne verremo mai fuori. Io credo che se questa settimana Alberti e Zavettieri saranno bravi a lavorare su quei 35 minuti, forse vedremo il Bari del secondo tempo per tutta la partita. Quindi sia ben chiaro, nessuno vuole buttare a mare il Bari, nessuno vuole buttare a mare i giocatori. Sono convinto che Lugo Martinez, per come ce l'hanno descritto, sia un giocatore che ci farà divertire. Voglio dare fiducia, perché è anche meritata la fiducia ad Angelozzi che ci ha portato giocatori anche importanti nel corso degli ultimi due anni. Però io ieri di Lugo Martinez non l'avrei tenuto per tutti i 90 minuti in campo, adesso mi sembra un giocatore da allenamento, formidabile da allenamento, ma che in partita quando gli avversari ti mordono le caviglie può andare in difficoltà. Magari con un'altra settimana di preparazione, con qualche accorgimento, Lugo Martinez saprà far vedere in pieno tutte le sue qualità. Io gli ho visto fare delle cose buone, ma quando non era marcato, quando ha avuto la possibilità di fare da lontano dei lanci di 30-40 metri, ma appena entrato un po' nel vivo del gioco e aveva gli avversari addosso e faceva una fatica tremenda. La rapidità nel calcio italiano è tutto, la rapidità di esecuzione. Ripeto, Donda, a me non è che non piacesse Donda, però non piaceva il fatto che avesse due marci in meno. Il miglior Donda lo vediamo poi con Conte con un altro tipo di preparazione. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto?